Le armi della persuasione Come e perché si finisce col dire di sì di Robert Cialdini Se chiediamo a qualcuno di farci un favore, l'otterremo più facilmente se forniamo una qualche ragione Alla gente piace avere delle ragioni per quello che fa Questa è una delle citazioni più celebri di questo libro che ne spiega perfettamente l'essenza Cos'è che rende un tuo messaggio altamente efficace alle orecchie del tuo pubblico? Come superare le sue barriere? Se vuoi scoprire quali sono i meccanismi che regolano la persuasione dei tuoi utenti Questo è un libro da non perdere Psicologo statunitense di fama internazionale Robert Cialdini È conosciuto ovunque nel mondo per i suoi studi approfonditi sulla psicologia sociale della persuasione Un libro del 1984, Le armi della persuasione È uno fra i testi di comunicazione più conosciuti al mondo con oltre 2 milioni di copie vendute In questo libro Cialdini enuncia e approfondisce le sei armi della comunicazione persuasiva Capaci di influenzare le decisioni e le opinioni del pubblico La prima leva è la reciprocità Regalare qualcosa a qualcuno porta all'altra persona a essere più propensa a restituirti il favore Accettando di buon grado la tua proposta In secondo luogo abbiamo impegno e coerenza Ovvero la capacità di mantenere costante la percezione che le persone hanno di te In modo che i tuoi messaggi siano percepiti come rilevanti e significativi Il terzo aspetto è la riprova sociale Ovvero il fare utilizzo di feedback e recensioni per supportare la serietà del tuo messaggio o prodotto Cialdini prosegue poi introducendo la leva della simpatia Ovvero la capacità di un'azienda di sapere entrare in piena sintonia con i bisogni del proprio pubblico Il meccanismo successivo è quello dell'autorità Che si scatena quando riceviamo certificazioni e attestati di valore E infine la scarsità Cioè quella tecnica di far percepire quanto raro, limitato o esclusivo sia il prodotto che stiamo proponendo Grazie a questo libro imparerai a Comunicare in maniera efficace Scegliere le migliori strategie di comunicazione Incrementare i risultati del tuo business Aumentare la tua autorevolezza Un libro perfetto per i professionisti del mondo della comunicazione Gli esperti di marketing Gli appassionati di sociologia La lettura ideale per imparare con semplicità i segreti della comunicazione persuasiva Cosa ne pensi di questo libro? Quali altri libri ti hanno ispirato? Fammi sapere la tua opinione nei commenti E ricorda, lasciati ispirare e impara come avere una vita piena di successo